questo video per quello che dico va sul rambo in way però come vedete dal titolo almeno credo mettono nel titolo analizzerò la discesa in campo di kennedy ci arrivo subito solo un preambolo inizialmente con un pensiero del presente cioè del passato perché oggi come oggi pensare al presente significa già passato sembrava una cosa buttata lì invece poi riflettendo e farò l'analisi a seguire allora passiamo a john kennedy che sta succedendo john kennedy questa è una carta questo che kennedy non il partito democratico sta a kennedy come il partito repubblicano dei vari bussi sta a trump cioè in uno scenario adesso in cui si va dove disse trump e dove pure i democratici stanno a guardare perché è vero che sono a destra e sinistra opposti ma una linea centrale c'è cioè make great america significa no l'impero il contrario fangulo e base americana fangulo la nato fangulo tutti le colonie tra virgolette il petroldo il dollaro ma ci chiudiamo disse in un video tanto tempo fa rimaniamo una potenza regionale noi e stiamo sette e mezzo senza avere l'imperialismo kennedy primo primo presidente di una superpotenza novax trump non era novax e era certo ci hanno miccato l'occhio tantissimo è stato il migliore tra tutti quanti quindi sta cambiando il mondo e i democratici non sono più i democratici diciamo di una volta una volta nel senso del tempo moderno perché prima ancora erano decenti e i repubblicani erano proprio i più bastardi johnson gullara guerri un dietro ma c'è la sera e la fino alla loro alle loro tentacoli finali che furono bush i padri e figli ecco non sa chi è più schifoso sempre detto tra questi repubblicani e quei dei repubblicani e prima di trump e questi democratici da trump in polo o no anzi prima ancora clinton obama qui non questa la candidatura di kennedy e la spaccatura totale dentro il partito democratico è finita non saranno più globalisti non saranno più i più bastardi di tutti anzi andranno a recadere io voglio andare nelle nelle campagne nelle parti rurali dai pescatori cioè tutto quel bacino che era trampiano corretaggio repubblicano pure quando erano maia quando questi perché cambiata faccia la matrice sopra democratica questo sto sto dicendo li voglio sdoverare teoricamente secondo me è così poi andiamo a vedere alla prova perché poi ci ritorno a questa parte che sto analizzando perché c'è un problema c'è un dubbio ci può essere un dubbio che sta gente mi manda avanti kennedy questo non si sa che fare alla fine vince con dei compromessi per esempio il vicepresidente però devi mettere questo e la ormai sono compromesso vince con l'appoggio veramente del blocco del partito democratico che che ripeto secondo me punta a non essere più quella si ricapovolce un'altra volta e dopo magari non si spara più ma gli viene un infarto una volta che ormai al 99 per cento vince la dei riconservatori vincono i repubblicani che sia con trump che sanno che comunque sia e questo invece con un colpo di genio del genere perché trump è contro il dipstate kennedy ancora di più il padre ma soprattutto lo zio furono assassinati vabbè chi non sa la storia andasse a vedere denunciato chiare e tondo poi a quei tempi questo non lo spara più viene infarto e passa il vicepresidente e ci ritorniamo stavolta legalmente senza imbrogli di baide con tutti sti pari non sarà così c'è questo rima non sarà così perché non si punta più a quello i democrazio non saranno più i democratici li accomunerà questa lotta al deep state tutte e due dal più grande dal più convinto repubblicano al più deluso democratico che dice cavolo kennedy non ce n'è uno dimmi un americano che dice no ma quello meglio che hanno ucciso jeffie o al fratello come la mettiamo mo sia in questa candidatura mi chiedeva alcuni mi chiedevano io inizialmente non gli ho risposto per un giorno mi chiedeva guarda ci vuole un video per spiegarlo cosa ne pensi di kennedy di candidato se capovolto tutto in un giorno quella più grande notizia diciamo di un certo peso che comincia a sconvolgere è la candidatura di kennedy che non è una candidatura kennedy non può perdere con chiunque lo va a sfidare dei democratici per poi andare alla alla casa bianca chi ci va bide vabbè non manca si presenterà kamala herris clinton obama uno nuovo mai conosciuto non ce la fa vince kennedy non vince che diventa presidente vince le primarico chiunque lo va a sfidare il partito democratico il partito democratico se si canta col partito democratico vuol dire che gli da manforte vedete come si capovolge il mondo e se noi non seguiamo questi veri linee di demarcazione perché il resto è tutto capovolgimento magari fumoso fake questi sono quelli di base su cui puoi costruire una visione o un'analisi che poi si adempie dice poco non è che qua stiamo a fare i profeti se adempi un'analisi adempi il tuo movimento su quello che sta avvenendo e può essere vitale fosse anche di scelte di lavoro di cose di visione di tutto di scelte poi kennedy è la più grande capovolgimento di quello che noi eravamo convinti ormai noi eravamo convinti che i repubblicani fosse il male fino da jones le cose con ladri imbrui e poi dei bush quello non si sa poi arrivò obama yes we can una tutti quanti la gente si crede invece erano fake erano fake ero un cavallo di troia però credevamo credevamo parlo proprio dell'americano più che altro che cavoli democratici si vuole mettere l'assistenza sanitaria obama questi temi che tocca la sinistra da lì in poi si è distrutto tutto ma già da clinton le guerre che hanno fatto però sono state un po maschile insomma visto che l'alternativa erano i mandriani i petrolieri li bush li ceni sta gente qua e poi ci siamo resi conto sempre più anzi più che altro col senno del poi quando parlando di clinton e poi di obama che questi sono diventati oggi proprio una ragione peggio di tutto quello che ha potuto farà la destra più schifosa degli stati questi sono il male lo sappiamo sono il male il pd in italia che riflette sempre come sono diventati il male il pd in galera fucilatele tutti questi di sinistroidi che fanno capo sempre in un certo senso non totalmente ma comunque di imputare i democratici americani sono diventati lo schifo più schifo che esiste lo schifo e adesso valla a far capire a queste masse che si svegliano adesso perché questo è un problema perché uno che dorme non è un problema è che se ti svegli ma non sei svegliato da svegliarti 24 h minuti perché adesso si deve capire e guarda che nostra valla a far capire ma quello che sta messo qui si mette in mente le cose e dopo non gliele le levi mai più per tutta la vita o comunque i democratici sono il male ma questi capavolge tutto perché perché alla fine se la storia la storia proprio la quello che deve essere i democratici faccio un esempio se sono stati più ma adesso devono fare il bene del popolo una volta fa uno il bene una volta fa uno il male ma l'importante sia se fai il bene che fai il male che stai al governo perché le appalti le direttive le cose tutte le cose le tengono loro che sia per andare a fare il bene fare il bene tra virgolette comunque è meno peggio o vai a fare il male non gliene frega allora siamo in una fase della storia in cui adesso non è più chi fa male e chi para i colpi del bene ma adesso è alla corsa chi fa bene e guarda caso trump kennedy tu per so voterei io voterei tutte e due ma per le politiche per come la penso ma trump è compromesso non perché è stato beccato quelle stronzate non assolutamente è compromesso che la gente le nuove generazioni non ce la fa più è come se ora ancora c'era andreotti berlinguer con le nuove generazioni già per un costo di scontro naturale col vecchio non le vuole sentire più quindi è cambiato si sta cambiando gli stati uniti non hanno non sarà più con potenza di conseguenza la politica democratica e la politica repubblicana quella repubblicana già è partita con trump da tempo questi proprio zero proprio modi colpo non è che sono partiti cercano di recuperare ha piazzato una pedina paurosa quando arriverà il momento del voto ecco perché vi dico il presente già è passato perché non dovete vedere oggi che si vota kennedy con un suo sfidante democratico e poi trump o chiunque sia contro chi vince di questi lo dovete vedere con lo scenario che ci sarà fra no di colpo fra 18 mesi ti alzo c'è un altro scenario step by step gli stati uniti cominciano a prendere il discorso l'egemonia economica e quindi a quel punto la gente dirà ma che facciamo rimettiamo trump che è quello già nonostante tutte le cose che dice però alla fine è sempre ci siamo ritrovati sempre peggio a livello economico cose adesso si ristruttura tutto e chi mettiamo è come se rifondiamo una società di calcio tutta nuova e ricominciamo a mettere lo stesso presidente o un allenatore o il capitano si riparte qui è finito giusto o sbagliato e chi metti senza che la storia vuole continuare a globalizzare a massacrare quando non ci sarà più questo e si vuole ripartire dalle fondamenta pulite sane non ha importanza a quel punto se sarà democratico o repubblicano perché quelle categorie visto che stanno scemando sempre più come da noi destra e sinistra step by step a 18 mesi non esisteranno totalmente più la gente guarderà la persona poi che la cupola su in cima è rimasta quella democratica quella che ha massacrato ma cambia non cambia la cupola cambia il fine lo capovolge non vogliamo più massacrare vogliamo fare il bet importante l'indroite a noi e non ai repubblicani si vedete grazie